Buonasera, siamo giunti all'appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Questa sera ci occupiamo dell'emergenza criminalità nella provincia di Napoli e nel capoluogo. Ieri il Ministro dell'Interno Alfano ha presieduto in Prefettura il Comitato per l'Ordine Democratico, ha dato delle certezze, ha detto che ci sarà l'impegno delle fordine sul territorio. Certo è che i delitti che si sono registrati, le continue angherie alle quali sono sottoposti i napoletani continuano. C'è un'emergenza criminalità, c'è una microcriminalità che fa paura, c'è una grande criminalità che ha in qualche modo martorizzato l'economia meridionale. Perché gli imprenditori, coloro i quali vorrebbero investire nel mezzogiorno, in qualche modo si fermano rispetto alla realtà dei nostri territori. Allora il governo deve fare di più, le forze dell'ordine devono essere aiutate, devono avere i mezzi idoni per contrastare una criminalità che diventa sempre più spregiudicata. Ecco perché riteniamo che questa sia una strada giusta, sia una strada importante che si deve portare avanti con determinazione. Non è più possibile assistere a furti, rapine, qualunque cosa si verifica a Napoli, non vogliamo parlare di questa scia di omicidi con 6-7 persone bruciate nelle auto. Veramente non è degno di una città che vuole essere capitale nel Mediterraneo. Grazie per l'attenzione e vediamo le altre notizie del Videogiornale. Riforma del Senato Un voto che non sarà più elettivo e che dunque sarà modificato sulla base di quattro paletti precisi. No al voto di fiducia, no al voto sul bilancio, no all'elezione diretta dei senatori, no all'indennità per i senatori. Insieme all'abolizione delle province il risparmio stimato è di un miliardo di euro all'anno. Entro fine aprile poi sarà la volta di pubblica amministrazione, fisco e innovazione tecnologica. Abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro e approvazione del documento di economia e finanza tra martedì e mercoledì della prossima settimana. E nella settimana di Pasqua via libera gli 80 euro in più da inserire nelle buste paga di chi guadagna fino a 1.500 euro netti al mese. Dopo le polemiche degli ultimi giorni è un Matteo Renzi decisamente carico quello che al termine del Consiglio dei Ministri annuncia che è finito il tempo dei rinvii. E che il via libera al DDL costituzionale sul Senato e titolo quinto è una grandissima svolta per la politica e le istituzioni perché non so se ci sarà il lieto fine ma questo è un buon inizio, afferma Renzi. Il governo dice basta con i rinvii, mettiamo in campo il DDL costituzionale che ha una forza straordinaria. Sono assolutamente certo, aggiunto affiancato dal ministro Maria Elena Boschi e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Graziano del Rio, che non ci saranno tra i senatori persone che non colgano la straordinaria opportunità che stiamo vivendo. Sono certo che la stragrande maggioranza dei senatori non potrà scacciare questa speranza. Dura però la replica del capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta. Renzi fa demagogia e populismo sulla pelle degli italiani. Minaccia ma non ha la pistola per sparare. Dice che se non passa la riforma del Senato si va tutti a casa ma con quale legge elettorale andiamo alle elezioni politiche? Il problema, conclude Brunetta, è dentro il Partito Democratico, un partito che non esiste più nei gruppi parlamentari. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 55 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, reati ipotizzati, truffo e peculato, nell'ambito delle indagini sulle spese pazze, cioè con fatture discutibili, del Consiglio regionale della Campania. 52 riguardano consiglieri, tutti attualmente in carica, ad eccezione di Pietro Diodato, mentre 3 riguardano i soggetti che hanno fornito le false fatture per giustificare le spese. Tra i destinatari degli avvisi figurano il sottosegretario PD Umberto del Basso De Caro e i senatori Domenico Desiano ed Eva Longo. 13 le richieste di archiviazione, in particolare per l'assessore regionale alle attività produttive Fulvio Martuscello, ex capogruppo PDL, Annalisa Vessella Pisacane, Ettore Zecchino e Angelo Polverino, solo per il peculato. Le contestazioni riguardano quasi integralmente la gestione dei rimborsi erogati dai singoli gruppi e consiglieri per le spese legate all'attività istituzionale. Parallelamente la Guardia di Finanza aveva notificato il 7 marzo a 60 politici regionali altrettanti inviti a dedurre messi dalla Procura della Corte dei Conti nell'ambito dell'inchiesta contabile sulla gestione del Fondo per l'assistenza e le attività istituzionali. Si tratta di una somma che per il bienio 2011-2012 oscilla tra un milione e mezzo e due milioni di euro per la quale non sono stati presentati i rendiconti. Il presidente della regione Campania Stefano Caldoro blinda la sua giunta. All'indomani della richiesta di forza Campania di un rimpasto in regione durante la presentazione del nuovo simbolo del partito il governatore giudica un errore rimuovere i tecnici dell'esecutivo. È legittimo che tutti, anche l'ultimo dei consiglieri, dicano ciò che vogliono. È la democrazia, ma io sono contrario, precisa il presidente della regione. Caldoro ritiene indispensabile il contributo e l'apporto di gente come Edoardo Cosenza, Caterina Miraglia, Guido Trombetti e Sergio Vetrella, definiti da forza Campania, oggetti misteriosi che non hanno fatto nulla e fanno perdere consensi. L'unico a non essere finito nella rete dei dissidenti è Gaetano Giancane, assessore al bilancio al quale riconoscono di avere evitato il fallimento. Questa è la giunta migliore d'Italia, puntualizza Caldoro. Nessun rimpasto dunque con buona pace di forza Campania. Sono orgoglioso di questa giunta, chiude a ogni ispiraio il governatore. Peraltro da sempre il refrattario a cambi in corsa. La gente non capirebbe. Credo che si va contro il sentire comune dei cittadini, della gente, degli elettori, delle persone, dei giovani che vogliono un'apertura della politica, vogliono un'apertura alla società civile, alle loro migliori espressioni. In quel mix giusto che noi abbiamo garantito dall'inizio, quel mix di espressione della politica, perché la politica è anche una cosa importante e nobile, e di tecnici di grande valore, che sono poi amministratori di grande lavoro, perché non sono tecnici, sono figure straordinarie, che sono stati al vertice della ricerca italiana, al vertice delle nostre università. Non è che hanno fatto solo il professore della loro materia, hanno amministrato e hanno gestito grandi enti. Ognuno di loro è tra i migliori esperti della materia, quindi si occupano delle materie di cui conoscono. Siamo molto orgogliosi di avere l'aggiunta migliore d'Italia e quella più qualificata d'Italia. Mostra un certo ottimismo e chiede tempo per poter lavorare e individuare le criticità su cui operare. Emonia Liberti, il nuovo assessore della squadra del sindaco De Magistris, la sua discussa delega è alla promozione della città. Si può dire che il primo cittadino abbia affidato alla Liberti la sponsorizzazione del brand Napoli. Dal canto suo il neoassessore ribadisce che il suo compito sarà raccontare quanto di buono si fa in questa città, quanto spesso sostiene non venga riportato dai giornali, una sorta di braccio mediatico a cui possano appoggiarsi gli altri assessorati. Sul forum delle culture a ferma Liberti si sta lavorando benissimo. Ecco le prime parole da assessore. È solamente, come diceva il sindaco, un allargamento per poter ancora di più amplificare quello che accade a Napoli, per poterlo portare fuori nel mondo e perché no, anche insomma è uno scambio portare al di fuori, portare nel mondo e prendere dal mondo e portarlo qui a Napoli. Ci può fare un esempio concreto di quella che può essere una prima azione del suo assessorato? Sicuramente quanto prima incontrare le persone che hanno quello spirito di cui parlavo prima, quindi questo spirito assolutamente proattivo, costruttivo e iniziare subito a aprire un tavolo appunto di concertazioni sul da farsi e ovviamente individuare laddove ci siano degli ostacoli o delle problematiche che si sono innescate sino ad oggi vedere immediatamente concretezza come risolverle. Un pesce d'aprile macabro, volendo anche di cattivo gusto, che coinvolge direttamente Luigi De Magistris. Il primo cittadino di Napoli ha visto le vie della sua città tappezzate di annunci mortuari. È venuto a mancare, si legge, e con lei senza accento, proprio il sindaco ed ex magistrato. Un'idea dei club Forza Silvio del capoluogo, che in questo modo intendono lanciare una provocazione al sindaco. Queste le reazioni dei passanti incuriositi. Ma questo è il calcio Napoli che sta facendo questo... No, leggete bene, leggete. No, aspetta, allora ex magistrato attuale sindaco di Napoli, che danno questo annuncio, la moglie, fratello. Va bene, in generale, in generale, in generale, in generale, palazzi, presente, vale anche come ringraziamento. Vabbè, il club forse l'avevo capito che era un discorso. Lì che è morto, Luigi Dei Massi, sti. Leggete bene, leggete bene. Ecco il magistrato attuale sindaco di Napoli, insomma, non c'è la moglie, fratello. Ah, vabbè, non si fanno queste cose, vero? Ah, che ne so, chi si fa il tumore, non puoi andare a prendere a chi si. Quindi che ne vende? E io penso che hanno ragione, chi si corre. È ovvio che devo stracciare, ancora, gli italiani che credono in Berlusconi e la destra, che sono tutti magliacci, perciò più fiducia alla sinistra. più fiducia a Renzi. E lo stai staccando? Eh, guarda, Silvio, non ci dicono le parole perché sono un bravo ragazzo. No, si deve stappare, perché non è più possibile, basta. Questo cartello è un annuncio mortuario, rego e pace all'anima sua. No? È vivo però. È vivo? Eh, non lo so, io ho letto che è morto qua. È il sindaco, signore? No, lo sindaco è quello che è, però se è morto è morto, pazienza. No, è vivo, è vivo. È vivo? Sì. Eh, speriamo che lo andiamo a trovare il 2 novembre. Vabbè, è di pessimo gusto, indubbiamente non è uno scherzo. Potevano adottare qualche altro sistema per contestare il suo operato. Del sindaco. Ma che ce ne fai? Sono giù da una c***a con la coppa faccio da dentro. La vecchia Europa ha bisogno di accogliere i migranti. Nuova forza lavoro per una popolazione comunitaria che invecchia. Le immigrazioni vanno viste dunque non come un problema, ma come una risorsa e vanno gestite in un'ottica sempre più europea. A presentare a Napoli gli ultimi dati sulle migrazioni e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ha tenuto un incontro presso l'Università Federico II. Tra le proposte emerse un Erasmus per far studiare in Europa i giovani dell'area mediterranea e uno just soli temperato che preveda la cittadinanza ai figli dei migranti in età scolare. Abbiamo scelto Napoli perché è una città simbolo da sempre di migrazione e integrazione, afferma Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Due fenomeni che hanno da sempre caratterizzato il nostro continente. Sentiamo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Un'Europa dei diritti e delle persone, non solo l'Europa delle transazioni finanziarie, dei capitali e delle merci. Mediterraneo come mare di pace, Napoli come città di pace, che si candida a essere punto di riferimento del sud Europa e del Mediterraneo. Quindi noi puntiamo molto a salvaguardare i diritti e ci auguriamo che questo Parlamento e questo Governo rapidamente approvino lo just soli. Chi sta in Italia, chi nasce in Italia deve avere la cittadinanza italiana. La campagna riparte dall'innovazione per sfidare l'Europa e questo è il senso dell'incontro di presentazione di stress e il distretto ad alta tecnologia per l'edilizia sostenibile. La nostra regione è in prima linea sul fronte ricerca e innovazione e le parole del Presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro durante il dibattito che si è aperto presso il polo congressuale della stazione marittima di Napoli. Nato senza scopo di lucro, il distretto stress opera mediante un network di imprese, università e centri di ricerca del territorio campano con l'intento di valorizzare i livelli di competitività e innovazione nel settore delle costruzioni, di incentivare la nascita e lo sviluppo di start-up di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, promuovendo attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Sentiamo il Presidente del CNR, Luigi Nicolais. Questo è un modello che dovrebbe essere un modello di riferimento anche per mettere in rete altri attori della crescita. Oggi nessuno può fare da solo niente, oggi anche la ricerca richiede un'interazione di saperi positivi. Abbiamo bisogno che persone esperte sappiano parlare con persone esperte di un altro settore, cosa difficile, specialmente in Italia e forse anche a Napoli, perché oggi non c'è più la necessità di possedere un dato, ma è quella di condividere il dato e quindi cambiare totalmente la mentalità. La mentalità è quella di saper lavorare assieme. Stress lo dimostra in un settore, come dicevo, centrale e cruciale per lo sviluppo. Le nuove frontiere del risparmio energetico, l'utilizzo di materiali ecosostenibili in grado di assicurarne la sicurezza strutturale fino alle costruzioni sostenibili delle case del futuro. Un comparto che nel complesso vale il 10% del PIL nazionale. Centri storici ed edifici oggi vengono monitorati con attenzione da stress proprio per garantirne la sopravvivenza e la sicura fruizione. Un esempio a Napoli nel centro storico è rappresentato da Palazzo Penne. Un sito è stato spiegato coinvolto per le attività dimostrative del progetto PON-Provaci, di cui stress è capofila, attraverso un accordo di collaborazione tra Regione Campania, Stress e il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Architettura della Federico II di Napoli, che prevede attività di diagnostica, valutazione della vulnerabilità sismica e la redazione del progetto di recupero architettonico, funzionale, strutturale ed impiantistico. Nuove competenze per competere. Questo è l'auspicio dell'Unione Industriale di Napoli, nonché il titolo del progetto presentato, che si inserisce nell'ambito del Master Plan delle politiche del lavoro della provincia di Napoli. La capacità previsionale non deve indurre in confusione, non si intende ricorrere a profezie o utilizzare sfere di cristallo, ma sviluppare una metodologia basata sulla costruzione condivisa con le aziende di alcune ipotesi di sviluppo del ciclo di vita organizzativo in funzione dell'evoluzione dello scenario di riferimento, riunendo tutte le condizioni necessarie per trasformare le competenze in obiettivi perseguibili. Per far questo si intende avviare, con testimoni privilegiati e aziende leader di alcuni settori strategici, una riflessione prospettica sulle figure professionali emergenti e sulle relative competenze. Le competenze che emergeranno da questo percorso rappresenteranno quindi le motivazioni per l'attualizzazione di una figura professionale obiettivo, considerata come una costruzione progressiva di competenze sviluppata su ipotesi da validare e correggere. Marilu Galdieri, assessore alle politiche attive del lavoro della provincia di Napoli. Nel corso di questi anni abbiamo monitorato la situazione dei servizi per l'impiego della provincia di Napoli e ci manca sicuramente un dato, quello delle imprese. Per meglio dire, le imprese poco vengono nei servizi pubblici per l'impiego, preferiscono avere altri canali. Noi tentiamo, insieme all'Unione Industriale di oggi, di presentare un progetto, una nota metodologica, che porti anche le imprese del territorio verso il servizio pubblico e possa così favorire il famoso incrocio domanda-offerta che l'ISFOL anche ultimamente ci ha detto a essere un po' debole nei servizi pubblici. Continua la telenovela dello Stadio San Paolo a Napoli. Salta l'incontro annunciato tra i due protagonisti, il patron dell'Aurentis e il sindaco dei Magistris, e non c'è ancora nessuna firma sotto la nuova convenzione per la gestione dell'impianto sportivo di fuori grotta. «Con questa storia dello Stadio San Paolo mi sono stancato», sbotta il presidente Azzurro, presentando il ritiro della squadra di Benitez a Di Maro. «Se il comune non trova una soluzione, me ne vado, porto la società in Inghilterra e qui lascio la primavera». Poi l'annuncio con il sindaco, ma dei magistris risponde piccato. «Parlare è diventato stancante, sono pronto a firmare la transazione, la convenzione e andare avanti così come ci siamo più volte detti. Ci auguriamo che lo sia anche il presidente. Ho la penna per firmare», aggiunge il sindaco, «mi siederò appena saremo tutti pronti a farlo». Ma all'hotel Vesuvio, dove De Laurenti si aspettava il primo cittadino, si presenta invece il suo capo di gabinetto, Attilio Auricchio. A quanto pare si è trattato di un incontro di natura tecnica al termine del quale ci si è dati appuntamento per una nuova riunione nel corso della quale definire più in dettaglio gli scenari futuri. Il comune di Napoli acconsentirebbe a rinnovare comunque il rapporto, mentre la società a sua volta si impegnerebbe a presentare uno studio di fattibilità per la riqualificazione dello stadio.